E così veniamo avanti, simili in truppo a noi di ieri, ad una paura di immagini, contattata per scriverci. Dimmi non è così, dimmi non è così, dimmi non è così. Un po' ci ritroviamo, divisi da nuove operazioni, senza più nulla da rascondere. Sono più accorti, nel vostro aiutico e la vita di stagna, le caspite abitudini, quasi sangue appagate. E ci proviamo, in un panerino accogliato, in un seno che parte. Sto finalmente sospesi, da queste torche la scena. Le nostre ore canoniche, le nostre ore costate. Ancora troppo presto per organizzare il nostro scantato e il ferino. Non ho abbastanza, ma non ho mai avuto un'idea. Io non ti aspetto. 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 Le nostre ore contate, le cattive abitudini, quasi sempre appagate. Le nostre ore contate, le nostre ore contate. Le cattive abitudini, quasi sempre appagate. Le nostre ore contate, le nostre ore contate. Le nostre ore contate.